Oggi la delegazione ha avuto modo di incontrare un gruppo di lavoro informale che riunisce diverse figure che hanno una diversa provenienza politica e molto interessante è appunto il fatto che questo agisca come voce unica per portare avanti specifiche cause e istanze. Nel corso della riunione sono sicuramente emerse delle divergenze in termini di priorità che sono state palesate dai diversi membri di questo gruppo informale. Tuttavia quello che sì abbiamo riscontrato è una comunione di intenti, se così vogliamo dire, per quanto riguarda dei temi di fondo per noi essenziali, quindi in particolar modo quella che è la condizione dei giornalisti, quindi l'aumento della sicurezza di tali figure. Abbiamo notato sicuramente una volontà da parte del gruppo di apprendere da quelle che sono le best practice che noi stessi abbiamo raccolto, soprattutto in termini di protezione da offrire ai giornalisti freelance. Quindi al di là di una, se così vogliamo chiamarla, reticenza dal punto di vista politico, sicuramente è chiaro anche la loro volontà di appoggiare e sostenere quanto più possibile la libertà dei mezzi di comunicazione, della stampa e del giornalismo, soprattutto perché si ritiene che tutto ciò vada fatto per il bene della società, per il bene della democrazia, quindi vedremo poi quali saranno le loro iniziative future. Tuttavia l'impressione che ho avuto dal nostro incontro è stata senz'altro positiva. Ci vediamo verso il bar, ok? Ciao!